Siamo molto contenti di essere venuti qua a fare questa esperienza, perché per noi è un'esperienza importante. Abbiamo trovato un torneo di alto livello, sia per le squadre del posto e sia per le ospiti. Per noi è tutta un'esperienza in più, perché abbiamo un gruppo che abbiamo assemblato quest'anno con realtà diverse. Abbiamo trovato per adesso due partite molto ostiche, ma già lo sapevamo, perché sapevamo la forza di Bergamo e anche quella di San Martino. E devo dire che comunque è un torneo con degli altri contenuti tecnici, individualità importanti. Quindi per noi è un'esperienza che spereremo di portarci poi avanti nella nostra realtà. e poi sperando di arrivare alle fasi successive, che sia già un'esperienza utile per le fasi successive a quella nostra regionale. La partita di oggi è stata una partita che è stata un po' in fotocopia rispetto alla prima partita. Quindi noi abbiamo avuto un impatto non buono, sia ieri che oggi. Quindi abbiamo preso subito dei break che ci siamo portati avanti per tutta la durata della partita. La cosa positiva è stata che sia ieri che oggi siamo riusciti a reagire, fare il tesoro dell'esperienza dei primi quarti e fare in modo che il punteggio non si dilatasse troppo, ma di riuscire poi a giocare i successivi due quarti a darmi quasi pari.